Da tempo si parla di necessità di potenziare il personale, si parlava di convenzioni con gli ospedali del Sannio, per quanto riguarda gli anestesisti, ma ci sono altre carenze? A che punto siamo? Noi siamo in una fase molto delicata, le carenze ancora ci sono e soprattutto le carenze ancora non tutte sono state colmate. Per i servizi di radiologia, ma per tutti e tre i presidi, Sant'Angelo, Ariano e il presidio di Solofra, è stato chiuso il concorso e quindi sette radiologi dovrebbero prendere servizio o almeno sono stati selezionati. Adesso vedremo se poi quando verranno chiamati e questo il problema prenderanno servizio e quindi la situazione della radiologia dovrebbe essere abbastanza tranquilla. Per quanto riguarda le altre carenze, i concorsi sono in itinere e quindi si ricorre sempre a prestazioni aggiuntive, chiediamo aiuto dalle altre ASL. Per quanto riguarda il Criscuoli, gli anestesisti, sempre in grande carenza, sono state avviate le convenzioni sia con il Rummo di Benevento che con l'azienda sanitaria locale di Benevento. Adesso ci avviciniamo al periodo estivo con le turnazioni e anche delle ferie, come farete? Non lo so come faremo, certo la situazione è grave, critica, situazioni a volte difficili da affrontare, per cui credo che ci voglia un notevole impegno anche alla luce che la nostra età media, sia degli infermieri, dei medici ma anche di personali autisti, sono tutti quanti prossimi alla pensione, per cui in realtà magari entra un medico ma già se ne vanno due in pensione e ricominciamo da capo. Bisogna veramente rimettere mano agli organici, fare entrare dei giovani che oltre naturalmente a darci prospettive portano il loro entusiasmo e le nostre nuove conoscenze. Solo così questi tre ospedali possono uscire dalla vera emergenza. Grazie 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 Grazie